Hola Flamingo, ciao per incontri e ben entrati in questo nuovo video di Quacky a Charlotte Den e oggi siamo qui perché sono in una casa dove questo numero sconosciuto mi ha portato io ragazzi sono insieme al cameraman quindi sono al sicuro e ho anche la posizione perché infatti me l'ha mandata qua su whatsapp e mi ha scritto vieni qua a scambiare i pop it e in cambio avrai una sorpresa molto importante per te sono venuta appunto per scambiare questa sorpresa con i pop it io ho un sacco di pop it rari quindi li dovrò scambiare per forza per la sorpresa ok dovrebbe essere questa qui la casa ragazzi c'è un corno guardate è una coincidenza o qua c'è scritto benvenuti a casa baba mom baba mom si chiama così questo è essere che mi ha scritto ragazzi baba mom dentro c'è anche che schifo è ragazzi no che cos'è ragazzi ok 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 entriamo va bene c'è ragazzi c'è una borsa ragazzi deve essere caduta qualcuno ma c'è un sacco di cose dentro ok 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 questo è molto strano ci sono altre cose guardate una paletta con lo fumo in teodoranti qua c'è un altro paletta Ragazzi, non è che mi sta portando a casa sola, vero? C'è anche una piazza Una collana, ragazzi Maya Non mi dire che... Maya Non è che la sorpresa è Maya, ragazzi Non è che ha rapito Maya e adesso devo scambiare i papiti per Maya Ok, allora, intiamo Ok, 3, 2, 1 Non c'è nessuno? Mi è stato detto di venire qua Non c'è nessuno Ragazzi, c'è anche il cartone, quello dove... Oh mio Dio Hai scusa te il cameraman? Sei sicuro? È quello per scambiare i pop-it Qua ci sono anche delle tartarughe Oddio, deve essere... non so Qua c'è una camera Sembra una persona normale Però... Babà, mamma non mi sembra un nome tanto normale Ragazzi, ragazzi, non è una persona normale Non è una persona normale Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo Babà, mamma Sei tu, giusto? Cosa hai visto in un pop-it? Vuoi scambiare il pop-it? Ok, 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 sei tamo, va bene Ti do il pop-it Calmo, ok? Ho dei pop-it rarissimi Non ce n'è nessuno? Ce n'avrei solo tu, ok? Allora, io ti do questo quadrato arcobaleno bellissimo In cambio di quel cuore arcobaleno Uno scambio ecco Magari se mi dai una sorpresa in cambio anche Allora ti do anche l'arcobaleno colorato Va bene Wow, sì, 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 qua, qua Bellissimo Accetti Ok, ok Va bene Voglio averla sorpresa in cambio, non il pop-it Adesso ti do questo pop-it che si illumina il buio Guarda quanto è bello Ottimo Ok, è bellissimo Tieni Sì Cosa mi dai in cambio? Ok Accetto Accetto Sate che cosa mi proponi? Rifiuto Rifiuto, non voglio questo pop-it No, no, no Rifiuto Non voglio proprio questi pop-it Non voglio i pop-it Voglio la sorpresa adesso Questa La sorpresa È la sorpresa questa Allora in cambio ti do Guarda questo Among Us È gigante Arcobaleno bellissimo In cambio della sorpresa Ok, ce ne do altri allora Questi due In cambio della sorpresa Tre arcobaleno Tre arcobaleno Più Allora Questo qua Corre arcobaleno E questo among us Non ho altro Mi dispiace Sono cose rarissime però Allora Accetti Non ti avvicinare per favore Stai in un Ok Accetti oppure No, forza Ragazzi, che stai facendo? Hai accettato allora? Mi dai la sorpresa? No, no Dove stai andando? Babamom! Oh mio Dio Dove stai andando? La sorpresa Babamom! Ragazzi Ha preso tutti i pop it E la sorpresa Non me l'ha data Mi ha dato questo foglietto Senza niente Non è che forse È andato a prenderlo Ho paura però Veramente Mi ha preso tutti Quanti i pop it rari Che avevo Però se la sorpresa Ricordasse Maya La devo salvare E se È andato qua dentro Forse la sorpresa È proprio qua Ciao Oh mio Ciao Ma non ho fatto ragione Ragazzi c'è Maya Maia vieni qua Avvicinati Forza vieni Forza vai veloce Fai veloce Vieni Ok Vai Vieni Attenta a cadere Attenta a cadere Vai Vai Forza Forza Oddio Maia Maia Aiuto Babamom Lasciala Babamom Babamom Lasciala Babamom 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 Lasciala Maya Babamom Babamom No Lasciala Maya Maya Abri Babamom Abri Abri Maya Maya Maija Non babamom Babamom Lasciala La mia Maya 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 Alte la 话 Dora De de Papamom Shiana Log Shiana Is going with The w Non ci credo ragazzi Ok Ora aspetto che mi mandi la posizione E appena me l'avrò mandata Andrò in macchina da lei A riprendarla Ok allora ragazzi Sono in macchina con il cameraman che sta guidando Maya mi ha mandato la posizione Adesso la stiamo seguendo infatti E ragazzi guardate Maya dovrebbe essere qua Adesso vediamo dove sta andando Perché si sta muovendo anche lei Quindi stiamo seguendo la macchina E adesso vedremo dove ci porta E ragazzi stiamo andando Verso un lago guardate questo qua Adesso vediamo Dove è Maya sta andando dritto Per questa strada siamo in un tunnel Ecco il lago ragazzi Non è che la sta portando qua Ragazzi la posizione mi ha mandato In questa zona qui quindi adesso Sarò a cercare Maya Da queste parti infatti si può vedere Anche il lago che è comico Ragazzi è la Maya guardate È spuntato da quel lato Ragazzi è laggiù guardate Ragazzi guardate È uno stabilimento balneare abbandonato Guardate Oh mio Dio è laggiù Ragazzi Baba Mom la sta portando là dentro Guardate Oh mio Dio Una sandinia Ci vediamo Ci credo ragazzi È entrato là dentro E l'ha lasciata là Sto arrivando Piano ragazzi Piano Maia Maia è solo qua Mi ha estrappolata Non so come escire Maia guarda Vieni Forza Anomale Ok Finalmente Anomale Ok 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 Adesso vado a fargliela pagare Ok va bene No 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 Ci siamo appena liberate E mi vorrei creare altri casini Ma sei matta No Adesso vado lì a vedere dov'è E guardiamo cosa fare Ok bisogna sconfiggerlo Se no poi torno e ti rapisce di nuovo Forza Ma fai attenzione No Charlotte Forza 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 Ce l'hai fatta Ok Ok Siamo salve Siamo salve Forza Forza Scappiamo Scappiamo Vai Scappiamo Scappiamo Corri Ciao 4 12 14 15 15 15 15 15 15 Grazie a tutti.